eccoci qua oggi siamo qua con margò la nostra passeggiata di vicino di chilometri siamo al forte fratello minore del resto del resto non ci siamo in statica e questa è la prima volta andiamo dai che adesso torniamo giù prima però acqua e bombonetto va bene acqua e bombonetto acqua e bombonetto acqua e bombonetto ciao a tutti